Siamo con Stefan Zelger del Centro Sportivo Esercito, per te la prima estate in cui ti stai allenando con l'esercito visto che sei stato arruolato nella passata stagione e quindi come sta andando la preparazione? Sì, infatti la prima estate, la primavera che ho iniziato a allenarmi essendo un militare la preparazione sta andando molto bene, non ho avuto infortuni né problemi durante la stagione estiva è molto bello allenarsi da professionista adesso che prima ero civile quindi è già un'altra cosa, un altro allenamento, sei più libero in testa insomma adesso siamo qua alle prime gare e sono molto contento finora L'anno scorso ti sei tolto diverse soddisfazioni, quali sono invece i tuoi obiettivi in questa stagione? Beh, l'obiettivo primario sicuramente sono i mondiali Under 23 a Goms in Svizzera che saranno fine gennaio mi sa o i primi di febbraio quindi la preparazione è quella di arrivare in forma proprio ai mondiali Under 23 poi fare un'altra Coppa del Mondo sicuramente è un altro obiettivo e fare bene anche in Coppa Europa e poi un'altra ambizione sarebbero le Olimpiadi però diciamo che quello ancora un po' più lontano però ci proverò lo stesso Quindi sei molto determinato insomma per questa stagione? Beh sì, un po' di determinazione ci vuole perché sennò non arrivi da nessuna parte insomma sono questi gli obiettivi e cerco di raggiungerli anche se sarà difficile però la voglia c'è, la determinazione c'è e quindi sono molto motivato per iniziare bene questa stagione Grazie mille